ciao io sono francesco ricchichi e ti do il benvenuto in surf vhdl podcast il primo podcast italiano e attualmente anche mondiale che parla di progettazione hardware in vhdl con enorme piacere mi stanno arrivando molte domande e sempre più spesso quindi ho deciso di fare un esperimento di inaugurare la rubrica q and a question and answer quindi fare un mini podcast che si va a inserire nell'interno della programmazione delle puntate in modo da poter rispondere più velocemente alle domande perché ho notato che se devo aspettare di registrare le puntate quelle programmate poi magari la risposta avviene avviene molto distante dal da quando mi viene fatta la domanda per farmi le domande ovviamente puoi utilizzare il gruppo telegram il canale telegram troverai i link alle note dell'episodio penso che questo possa essere anche un modo per creare un podcast chiamiamolo laterale di risposta alle domande più frequenti quindi magari nuovi ascoltatori se hanno la stessa domanda possono andare direttamente nel mini podcast di riferimento per poter trovare la risposta facciamo questo esperimento la domanda di oggi arriva dal mio amico daniele daniele di mauro che ha anche lui un podcast non ha niente a che vedere con vhdl lui ha un podcast sulla fotografia però sta ascoltando stoicamente un podcast sul vhdl e mi ha mandato una domanda è una domanda abbastanza classica in un certo senso perché la sua domanda è che differenza c'è tra linguaggio di programmazione standard e il vhdl vhdl in questo caso noi parliamo di vhdl ma ci sono altri linguaggi che sono simili al vhdl sono verilog system verilog eccetera che sono molto simili sono linguaggi hardware descrittivi quindi andiamo a sentire dalla viva voce di del nostro amico daniele la domanda e poi proviamo a rispondere ciao francesco buongiorno ho ascoltato le puntate dalla quattro alla sette in bocor proprio adesso e come dice il nostro amico rick du ferre più cose sai e più domande di fai o qualcosa del genere quindi adesso che so cos'è vhdl almeno insomma a livello concettuale la domanda è alla luce di quello che ho ascoltato recentemente insomma stamattina che differenza c'è con un normale linguaggio di programmazione perché al momento tutto cioè quello che stai spiegando è va di pari passo con linguaggi di programmazione quindi qual è la differenza sicuramente ci sarà e dovrà ancora arrivare però la domanda mi è venuta adesso la faccio adesso quindi in che cosa si riferiscono perché quello che io vedo anzi quello che ho capito è che entrambi servono per programmare barra progettare qualcosa che farà delle altre cose in base a determinati stimoli però fino a questo punto hardware e software sono sono uguali anzi sembra quasi che l'hardware non abbia bisogno del software proviamo a dare una risposta alla domanda di daniele i comuni linguaggi di programmazione come ad esempio il c il c plus plus java python e chi più ne ha più ne metta servono fondamentalmente a dare delle istruzioni a un microprocessore e il microprocessore esegue le istruzioni quindi lo potremmo vedere in un certo senso come una ricetta che viene data a un cuoco dove il cuoco il microprocessore e la ricetta e il nostro programma quindi diamo la farina il sale lo zucchero il pepe o le uovo quello che sia e il nostro cuoco esegue le istruzioni in una certa sequenza e realizza la torta la pasta la pizza o le lasagne quello che sia se vogliamo tornare nel nell'esempio quindi ritornare invece all'elettronica digitale il linguaggio di programmazione fornisce delle istruzioni a un al nostro microprocessore per esempio al microprocessore del nostro computer quindi noi descriviamo il programma tramite il linguaggio di programmazione compiliamo il programma l'uscita della compilazione sono delle istruzioni che possono essere comprese dal dal microprocessore quindi passiamo dal linguaggio ad alto livello di programmazione alle istruzioni del microprocessore quindi il microprocessore è il cuoco dell'esempio precedente se noi immaginassimo il cuoco come un robot da sembianze umane questo robot avrebbe una bocca due gambe due braccia due occhi due orecchie e così via bene a questo punto qual è la differenza tra il linguaggio di programmazione il vhdl noi in vhdl non diamo la ricetta al cuoco ma descriviamo come è fatto il cuoco allora per esempio noi sempre nell'esempio che il cuoco fosse un robot perché se fosse un essere umano sarebbe più più complicato da fare l'esempio noi potremmo descrivere in vhdl il nostro cuoco con dieci mani quattro occhi due bocche per assaggiare due gambe eccetera quindi la nostra ricetta potrebbe essere eseguita più velocemente perché un cuoco con dieci mani può eseguire una ricetta più velocemente di un cuoco con due mani nell'esempio del microprocessore normalmente è un microprocessore a un'unità logica aritmetica ovvero la calcolatrice che fa i conti quando noi descriviamo il programma un'unità di accesso alla memoria esterna una cache memory ovvero le memorie quelle dove si appoggiano i dati temporanei all'interno del processore sono memorie molto veloci e così via noi in vhdl possiamo descrivere come è fatto il nostro processore quindi realizzare un nostro processore custom personalizzato per esempio con dieci unità logica aritmetica 5 bassi di accesso verso la memoria esterna e tre memorie di appoggio interna e così via ovviamente tutto questo vale se noi abbiamo poi un dispositivo hardware che possa realizzare il nostro microprocessore altrimenti noi possiamo fare la descrizione che vogliamo ma alla fine non funziona è come se in vhdl è come se noi potessimo descrivere una casa la casa la possiamo fare come vogliamo ovviamente poi dobbiamo avere il terreno per per fare la casa se la facciamo molto grande il terreno deve essere molto grande questo questo terreno in nel nell'elettronica digitale sono dei dispositivi che vengono chiamati esic o fpga gli esic sono dei dispositivi molto personalizzati in un certo senso li tratteremo un pochino di meno le fpga sono dei dispositivi che hanno un enorme numero di porte logiche al loro interno e la caratteristica di poter connettere quindi configurare queste porte logiche la connessione di queste porte logiche quindi l'uscita di una porta va a nell'ingresso di un'altra e così via per fare ciò ovviamente ci sono dei programmi ad hoc che fanno quello che fanno i compilatori per i processori ovvero noi diamo il nostro lingua la nostra descrizione vhdl a questo programma il programma la digerisce e tira fuori la descrizione a porte logiche quindi la descrizione strutturale si chiama come vengono connesse fra di loro tutte le porte logiche all'interno di questo dispositivo in questo modo praticamente noi possiamo andare a realizzare il nostro processore personalizzato perché se ricordi all'inizio avevamo detto che qualsiasi dispositivo elettronico può essere realizzato con delle porte and and not quindi siccome le fpga non sono altro che un'enormità di porte logiche and or not messe dentro un unico dispositivo e con la possibilità di collegare fra di loro queste porte logiche in maniera personalizzata quello che possiamo fare noi è realizzare qualsiasi tipo di hardware particolare quindi il nostro microprocessore personalizzato all'interno dell'fpga se avrai sicuramente sentito parlare di arduino arduino avrà la sua unità logico aritmetica all'interno e avrà delle delle periferiche che possono accedere all'esterno come delle porte seriali e così via bene noi in vhdl possiamo descrivere un nostro arduino personalizzato che abbia magari quattro unità logiche aritmetiche 10 porte seriali di accesso verso l'esterno e così via ovviamente il dispositivo sul quale verrà configurato questo nuovo arduino personalizzato deve avere la capacità di poterlo contenere adesso io non so quanto questo esempio abbia chiarito la differenza tra il linguaggio di programmazione classico e linguaggio hardware descrittivo ovvero vhdl in questo caso ma come ti ripeto potrebbe essere tranquillamente un altro linguaggio che verilog system verilog che che fanno questi linguaggi fanno praticamente la stessa cosa con una sintassi leggermente diversa questa è la fondamentale differenza tra un linguaggio di programmazione e un linguaggio hardware descrittivo quindi in un caso diamo la ricetta nell'altro caso possiamo realizzare il cuoco che esegue la ricetta bene io concludo qui il podcast fammi sapere dammi un feedback se l'idea del podcast laterale in un certo senso di domande risposta può essere una buona idea in questo caso io continuerò nella pubblicazione di questi podcast fuori linea fuori fuori programmazione per cercare di rispondere in maniera più veloce alle domande che mi che mi vengono poste magari in futuro darò delle risposte un po più brevi sul canale telegram in questo momento preferisco fare così così posso dare una risposta anche a chi ancora non segue il canale telegram ci sentiamo alla prossima e aspetto i vostri commenti via email o sul canale ciao 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 ciao